Complimenti! 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 La presidenza si è espressa! Rispetto! Metto in votazione l'emendamento 6.21 Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato! 6.303 Chi è favorevole? Chi è contrario? È approvato! Per cortesia, eh no colleghi! Colleghi! Ma siete vinti a cuore? Io proseguo nelle votazioni Siate veloci! No, no, no Dinamici! Schifani! 6.304 è inammissibile 6.305 è inammissibile Svelte! 6.306 è inammissibile Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non è approvato! Siamo intesi! Per cortesia, la presidenza si è espressa! D'accordo! Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non è approvato! Parere contrario? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non è approvato! Vado avanti! D'accordo? Non è approvato! Non è approvato! Non è approvato! Chi si astiene? Non è approvato! Colleghi! Non è approvato! Chi è favorevole? Non è approvato! Vi ho dato una risposta! Chiara il concetto? Vergogna!